londra siamo qui sul campo per fare delle sfide epiche insieme ai ragazzuoli e vai signori oggi cosa andremo a fare come potete ben vedere ci sono tre palloni diversi questo si chiama kicker bull questo è super santos tanto amato da noi italiani e qui abbiamo un pallone della serie a normalissimo mi raccomando ragazzi per una prossima sfida al campo 20.000 mi piace e ve la riporteremo magari con altri ospiti allora ci saranno tre sfide una punizione un'altra è un tira al volo è un'altra un tocchettino cioè un 12 semplice normale e poi sarei portiere in porto ovviamente chi perderà ci sarà una penitenza a fine video mi raccomando quindi seguito tutto il video per la coprire te chi ha perso mi raccomando caravaggio sport in village questo in descrizione mi raccomando vi ringraziamo sempre grazie mille e quindi andiamo dentro con le cialle allora signori andiamo dentro con la prima sfida ovvero le punizioni ok c'è tatino in porta chi non segnerà signori perderà questa challenge andrei piano vado si piano però forza manca mannaccio la piada in casa i capelli ora buona misa è questa ragazzi ora tocca a me c'è lo juventino a porta e quindi è ora di segnare ho sperato l'inclusio ci siamo raga partiamo aiuto ok ragazzi finalmente è il momento di battezzare questa porta quindi facciamolo aiuto porca moglia la travessa quanto mi è passata dall'oricchio ok ragazzi fino a ora sono stato in porta ma adesso è ora di segnare se la prepara anche guarda lo finisano attenzione il tiro ragazzi non ho fatto le prove di tiro ragazzi ora è il mio turno speriamo di insomma bucare un po' quella rete perché ancora nessuno l'ha fatto quindi andiamo tatino stai fermo come fai sempre scusa ragazzi ancora la porta intonza da parte di tatino proverò col mio sinistro infatti abbiamo cambiato lato a segnale vediamo un po' ecco attenzione non scende però era buono eh è scesa però era buonino tutti a zero raga allora quindi siamo tutti quanti a zero per questa challenge siamo tutti quanti perdenti e col super sandals non ce l'abbiamo fatta quindi signori andiamo dentro con la prossima challenge e vediamo se riusciamo a malapena a fare un gol dai dai almeno uno dai bene ragazzi seconda challenge tocco il tiro oppure uno due chiamata come volete raga tatino mi passerà il pallone sarà il mio assist man e speriamo di segnare a mister no no non segni Henry raga andiamo stati bene il passaggio bra stati mi raccomando no no ma cosa ma cosa Rodrigo 1 a 0 dai però c'era troppa buona c'era che non c'era qualserina ragazzi stati si provi di ballo con questa maldita tutto merito del pallone tutto merito del pallone questo tiro sgiunto ah Mirko tira tu sicuramente quello giuventino me lo dà male ora vi faccio vedere ah ripeto eh se me lo dà male ve lo dico vado ma guarda ne lo stai vedendo guarda come stai in surplasse guarda è vero è vero è vero è vero era perfetto te l'ho data ma facciamo sto colta e dai mi raccomando fammi segnare fai parte dei fuse gamers a dare piano il passaggio è alta è correttezza vado vado vai Andre la strozzata vado io adesso signori vado io chi sei te Perché devo segnare al quindicenne napoletano È arrivata a tre anni fa Vero dati Ok ragazzi Fuse Gamer Stavolta lo buchiamo Harry mi raccomando io te l'ho passata bene Come il primo tentativo Vabbè Massimo ho due tentativi Come Zietz 1 2 Bello Ok ragazzi prima abbiamo quasi Sverginato la porta con una traversa Questa volta è il momento giusto per farlo per bene Quindi Andiamo 10 Bella Ma i pali da rugby quando li piantano qua Iva vogliamo vedere la classe brasiliana Entriamo ragazzi Adesso facciamo vedere un po' come si fa Un po' di yoga bonito Vai Vai Iva Almeno tu Carica Era rimasto fermo Manca Maradò 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 Solo per chi assomiglia Perché poi il mio mancino è Merda Ragazzi Vorrò salvarmi Facendo gol Come ha fatto Harry Dalla penitenza finale Ricordiamo Andrea Un bel passaggio Attenzione Carica il mancino Famicino Chi sei? Chefchenko e rigori a manchester Che facciamo ragazzi? Tutti insieme? Eh si a sto punto No ma il re ha segnato Io ho segnato raga Sono il re ha segnato Io mi lavo le mani Io riprendo Dimmi quella che riprendo io Manca l'ultima sfida Che tira al volo Ma guarda Se tutti quanti segniamo E lui sbaglia dopo Tu mi ha fatto un altro gioco di campo Ti riprendono Facciamo il selfie Allora adesso manca Il tira al volo Come ha detto Mirko Se facciamo tutti quanti gol E lei sbaglia Dobbiamo fare tutti quanti La penitenza Perché siamo tutti ad uno E non lavo di più Andiamo dentro Con il tira al volo Ma non vi preoccupate Perché non segneremo tutti i gol Ecco Ivano Con il pallone della serie A Vai Iva È giallo come te È tutto il momento Dobbiamo riscattarci ragazzi È arrivato È l'ultima sfida Io la alzo Ivano Buccalo Eh vabbè no Eh lo so scusa Ti do la mano al mezzo È andato male il primo tiro Non va nulla Non va per niente bene oggi Eh dai come ha detto prima Home Sverginiamo sta porta Dai Ci siamo Vai Oh Sarà un tiro di molata Niente Penso anche io C'è la penitenza Ok ragazzi Non dico niente Perché prima ho parlato troppo Non è successo niente Ok Andrea Vai Omar Ok Oh Giglia Eh vabbè Non è la mia giornata ragazzi Vabbè Omar Te l'ho passata bene però No no va bene È la porta Con il pallone della porta Ti do la mano Eh no vabbè No vabbè te la dò Te la dò Ragazzi Il portiere ci prova Dai forza Devo segnare Dall'albergo il portiere Vai Tati Tati cosa c'è? Ma Luca Più all'altro Fino al tempo di corrimento Stavo cadendo Stavo che le scarpe Non sono per le scarpe Eh no fatti stavo scivolando Queste sono le scarpe di Piola Ha lasciato Ha lasciato Ha lasciato i tacchetti a casa Per quello Ragazzi se segno Dovete lasciare like Vai al piede Portacilo Andre Porco due Andre si scena Cos'è? Cos'è? Mi scena Mi scena Mi scena Arco due Ale è morto Tati cosa c'è? Tati no ti devi alzare Perché devo calciare io adesso Oh io ti ero Dalla cattata sul bigno No Tati Tati non volevo Tornetevi la scala Che dolore Vi al calzino Oh mamma mia Noia un'altra No 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 L'animazione Facciamo la respirazione bocca a bocca Ragazzi Vieni mister Mister possiamo fare altro Che dolore Tati cosa c'è? Tati cos'è? Poco due È morto Ti ha preso il dito in pieno? Raga allora abbiamo pagato portiere Perché Tati non ci ha fatto seriamente male E nulla Andiamo dentro Tati K.O Tecnico Ragazzi Devo tirare ancora io Sempre col mancino Proverò ad evitare La penitenza Ok Diciamo che Cos'è? Tutta la preparazione Non è servita A un emerito Ragazzi Ora è il mio turno Io sono già a un punto Quindi le mani me le sono lavate Tanto ci sono gli altri che fanno La penitenza finale Però Voglio eccellere E quindi fare anche il secondo gol Andiamo Vai Andre No Siamo forti uguali Ah beh Alla penitenza Facciamo fare altri Ok Quindi ragazzi Come avete potuto vedere Hanno perso tutti quanti Tranne me e Harry Grata Andre È bello È così Mi raccomando 20.000 mi piace Per altre challenge Al campetto E nulla Lasciate un mi piace Ma il commento Iscrivetevi al carattere Noi ci vediamo Al prossimo video Verrà ragazzi Ma benitenza Andiamo Perché Benitenza raga Ragazzi Seguitemi Ovviamente Senza pantaloni Dai Forza Dai 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 Cos'è il collegio Ragazzi adesso Facciamo un po' di stretching E un due tre 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 E un due tre